Nel comune di Melito di Napoli questa mattina è stato arrestato il sindaco Luciano Mottola al termine di un'inchiesta della direzione investigativa antimafia. Le misure cautelari hanno riguardato anche il presidente del consiglio comunale e altri due consiglieri comunali. In tutto 18 le persone arrestate con l'accusa a vario titolo di scambio elettorale politico mafioso, corruzione, concorso esterno in associazione mafiosa e tentata estorsione.